Come è possibile coniugare le nuove tecnologie, tutti gli elementi che possono oggi dare un accelerazione all'attività imprenditoriale, penso alle tecnologie digitali, a tutto quanto è modernità, con quelli che sono i punti di forza tradizionali del nostro sistema produttivo, che non ha molte grandi imprese, ma molte imprese piccole, medie, medio-grandi, spesso di estrazione familiare, che hanno avuto e hanno tuttora una forte performance in campo manifatturiero, ma è importante vedere anche come aggiungere una componente di servizi crescente ai nostri punti di forza manifatturieri, quindi cercare nuovi servizi, nuovi servizi al cliente, spesso associati anche alle produzioni manifatturiere, alla logistica, ai trasporti, che possano quindi dare un maggiore impulso ai nostri classici punti di forza.